Generale, l'esperienza militare in ambito medico così legata ai problemi gastroenterologici e all'estomie? Lei c'entra un punto che fa comprendere perché di questo convegno. Deve sapere che la sanità militare è dotata da molti decenni di un osservatorio epidemiologico che dopo la modifica del titolo quinto della Costituzione non ha consentito a livello regionale un altrettanto valido sviluppo perché noi siamo in grado di monitorare e sapere tutto il personale che è stato coinvolto e anche per motivi bellici o di conflitti internazionali, ricordo che esistono molti militari e molti medici in vari teatri ha fatto sì che ci fosse un'attenzione particolare a istituire un registro degli istromizzati militari. Noi siamo al paradosso che le regioni vanno ognuna per conto suo in campo sanitario per cui non esiste ancora un registro nazionale ma neanche in alcune regioni esiste un registro su questo particolare problema che indubbiamente richiede un'attenzione e una sensibilità del tutto particolari per cui è stata una risposta molto convinta da parte delle istituzioni universitari da parte degli specialisti di settore a voler istituire questa modalità di incontro per cui come medico militare avendo trascorso tantissimi anni con le stellette mi rendo conto che è un motivo di orgoglio e soprattutto di testimonianza che la collaborazione fra specialisti di varie competenze non solo nel campo specifico del convegno ma in tutti i settori è fondamentale per cui avere un osservatorio epidemiologico diventa fondamentale in molte situazioni anche analoghe.